Hai avuto un sinistro stradale con la tua auto e ti stai perdendo tra pratiche, periti, assegni, preventivi? Rivolgi delle carruzzerie Autopress e Bene. Con Autopress e Bene non penserai più a nulla. Consegnerai la macchina al nostro riparatore di fiducia autorizzato e la riprenderai riparata. In più, e non è poco, avrai 10 anni di garanzia sul pezzo di ricambio direttamente da Unipolside. E tu lo sapevi?